Chiedo ora a Roberto Tuber del Comando Nazionale dei Vigili del Fuoco, Prevenzione degli Incendi di salire sul palco, anche non abbiamo il palco ma... Buongiorno a tutti, io sono qui oggi per tutta una serie di motivi, uno dei motivi è motivo di cuore, perché io sono di Rocca Canavese, la storia della FOS l'ho sentita per tante volte, perché quando io facevo le scuole elementari la tragedia era capitata da non tantissimi anni, c'erano ancora dei superstiti, quindi la storia ci è stata raccontata, quindi noi la conosciamo molto bene, quindi per noi la storia della FOS fa parte della nostra storia come rocchesi, quindi già questo è uno dei motivi per cui sono qui oggi. L'altro motivo appunto è che in occasione delle manifestazioni appunto per la FOS ho avuto occasione di conoscere, anzi di ritrovare veramente Valeria, perché Valeria è una signora con cui giocavamo da bambini piccoli piccoli e il marito che è una persona eccezionale e appunto tutta una serie di persone che ho conosciuto in questa occasione appunto da cui appunto Bruno e anche altre persone. Allora io voglio solo fare un brevissimo intervento per quanto riguarda appunto la sicurezza che, come potete immaginare, è il nostro mestiere, il nostro pane quotidiano, no? Ecco, si è detto, molte persone che sono intervenute prima hanno detto che loro intervengono quando purtroppo l'evento è capitato. Ecco, noi cerchiamo sempre di intervenire, anche noi spesso e non volentieri, scusate, interveniamo quando l'incidente è capitato, quindi anche noi siamo, passatemi termini, quelli che raccolgono i cocci un po' in certi momenti, no? Gli interventi, gli eventi che sono stati citati prima, la Thyssen Group, l'intervento di Via Genova della Gru, ne abbiamo infiniti di questi casi purtroppo, perché purtroppo noi interveniamo spesso. Noi però interveniamo anche prima, nella fase preliminare, a livello normativo, perché c'è tutta una normativa di prevenzione di incendi, che comunque cosa fa? Aiuta le aziende a lavorare in sicurezza, perlomeno nel campo della prevenzione di incendi, poi in altri campi non è compito nostro, non è campo nostro, quindi la normativa di prevenzione di incendi aiuta in questo senso, quindi che cosa vuol dire prevenzione di incendi? Vuol dire fare tutto quello che serve per far sì che l'incendio non si verifichi, oppure se si dovesse mai verificare abbia le minore conseguenze possibili, ok? Quindi la normativa che cosa prevede? Prevede una parte progettuale dove l'azienda viene progettata oppure viene adeguata, il luogo di lavoro viene adeguato o progettato ex novo per far sì che rispetti tutte le norme di sicurezza che sono appunto in vigore attualmente in Italia e poi c'è la fase appunto, c'è la fase del collaudo successivo che da parte nostra appunto per vedere se effettivamente queste norme sono state rispettate, poi c'è appunto la parte anche di formazione dei lavoratori. Noi abbiamo un compito molto importante sulla formazione dei lavoratori, soprattutto quando riguarda la sicurezza, no? Quindi prevenzione vuole anche dire formazione, questo è fondamentale, questo è fondamentale. Quando nella presentazione del libro Il drogo delle bambine è stata letta una testimonianza di una delle bambine che è morta, che diceva, ah ma questo parlava appunto, lavorava alla FOS questa bambina, era appena entrata, tra l'altro faccio solo un piccolo inciso, l'azienda è durata sei mesi, chiediamoci perché, chiediamoci perché, un'azienda così durata solo sei mesi, cioè la risposta è abbastanza ovvia, soprattutto in quello che vi sto per dire. Questa bambina scrivendo a casa dice, ah è un lavoro facilissimo, in cinque minuti ho imparato a fare i fiammiferi. Devo dire altro, parliamo di fosforo, il fosforo è delle sostanze più pericolose che ci siano, il bombardamento di Dresda, con le bombe al fosforo, era solo una città durante la seconda guerra mondiale, senza contare tutti gli altri. Il fosforo è una sostanza pericolosissima, non si può far lavorare una bambina, a parte vabbè, una bambina, già solo questo, però purtroppo allora capitava, una bambina con il fosforo, con cinque minuti di formazione, non esiste, oggi come oggi non esisterebbe, meno male, meno male, meno male. Quindi dicevamo, la formazione è fondamentale, il collaudo è fondamentale, poi c'è anche una parte che riguarda i sopralluoghi che noi facciamo, i sopralluoghi ispettivi nelle aziende, dove noi appunto verifichiamo il rispetto della normativa di prevenzione di incendi e anche altre norme, perché molti anni poi sono tutte collegate. Il decreto legislativo 81 del 2008 che è stato citato, è un decreto che spazia su tantissimi campi, spazia sulla sicurezza dei luoghi di lavoro abbastanza in generale, tenendo poi in grado del fatto che purtroppo la normativa è sempre un passo indietro al lavoro, è come la polizia che è sempre un passo indietro ai ladri, perché purtroppo il ladro ne inventa sempre uno in più, e la sicurezza è sempre un passo indietro, perché nascono lavori nuovi, si parlava dei rider, tanti lavori nuovi dove molte volte si fa fatica anche all'inizio a capire quali possono essere le ripercussioni in fatto di sicurezza o di salubrità del lavoro, non è facile sempre, quando sono nati i primi computer, che l'agente ha iniziato a lavorare attaccato i computer, chi mai sarebbe andato a pensare che stare otto ore davanti a un videoterminale potesse dare dei problemi addirittura a creare malattie professionali, nessuno ci pensava, perché sembrava una cosa innocua, e invece innocua non è, ad esempio. Quindi, io adesso vedo chi sta guardando l'orologio, cerco di essere breve, ecco la normativa è molto importante, i sopralloghi sono molto importanti, soprattutto perché, perché vi faccio un esempio, diciamo che è positivo in Italia, che è quello delle aziende, quelle che vengono chiamate aziende a rischio di incidente rilevante, sono aziende che diciamo come nominativo sono nate dopo l'incidente di Seveso, se ve lo ricordate, chi se lo ricorda, nel 1976, questa azienda svizzera, che era appunto l'Eikmesa a Seveso, che ebbe questa grave perdita di ossina, dovuta ovviamente a un problema di processo, questa di ossina con una sostanza altamente velenosa, inquinò le falde, inquinò l'aria, tutto quanto, per parecchio tempo non si riuscì a capire cosa era successo, poi quando si capì, ci si rese conto di che cosa? Che molte volte un'azienda è pericolosa per i suoi dipendenti, ma anche delle grandi ripercussioni sul mondo esterno, quindi da questo nacque una normativa che viene chiamata ancora adesso normativa Seveso, in Europa è chiamata normativa Seveso, quindi voglio dire, questo è un caso che ha fatto scuola proprio a livello europeo, che tratta proprio che cosa? La sicurezza di queste aziende, che sono aziende pericolose, faccio un esempio, una raffineria, depositi di docarburi, aziende che lavorano sostanze pericolose, sostanze esplosive, il fosforo ad esempio, tanto per rimanere, sono aziende che sono assaggiate una normativa specifica che richiede un procedimento molto complesso e soprattutto, dopo richiede che cosa? Delle ispezioni continue, delle ispezioni continue e questo è importante, si diceva del fatto che appunto l'ispezione è fondamentale per mantenere la sicurezza dei luoghi di lavoro, purtroppo lo sappiamo bene, gli ispresal sono carenti dal punto di vista personale, io ho quasi 30 anni di servizio nei vigili del fuoco, io di primi anni ho conosciuto tantissime persone che lavoravano per gli ispresal, man mano che sono passati gli anni, le persone che incontro sono sempre le stesse, quindi purtroppo perché vanno in pensione non vengono sostituite e quindi, dicevamo, questa normativa prevede tutte queste ispezioni che vengono fatte, queste ispezioni diciamo aiutano a far sì che queste aziende che sono molto pericolose lavorino in sicurezza, quindi l'ispezione è fondamentale, però cos'è anche fondamentale, quello che diceva Bruno, la testa dell'azienda, cioè come pensa l'azienda, la politica di sicurezza dell'azienda, la sicurezza è un investimento, non è un costo e questo è una delle cose più vere che si possono dire in questo caso, queste aziende hanno proprio una mentalità diversa, quando tu entri in un, adesso non voglio fare nomi, un grande deposito di video carburi che c'è qui in provincia di Torino, tu entri in questa azienda, tu privato cittadino entri, prima ancora di entrare sul cancello c'è un display digitale con sopra scritto, in questa azienda non si verificano incidenti da uno, due, tre, mille giorni o quello che è, è un vanto per l'azienda non avere incidenti, è anche una pubblicità secondo me, è anche un aiuto per far capire che questa azienda è un'azienda sicura, quindi quello che si diceva andiamo a lavorare in aziende sicure, questo può anche essere un aiuto, cioè un'azienda che si pone in questo modo vuol dire che ha una politica aziendale della sicurezza con una politica diciamo seria, una politica fatta bene, quindi poi è chiaro che nei processi complessi, nei procedimenti complessi l'incidente può capitare perché è ovvio può capitare, però certamente queste qui sono aziende che cercano di fare di tutto per far sì che questo non capiti e quindi è importante appunto questo, però la politica aziendale, la politica della sicurezza aziendale è una cosa che si deve acquisire, deve essere acquisita a tutti i livelli, a livello del dottore di lavoro, a livello dei lavoratori che devono lavorare appunto con la massima, con quello che viene chiamata la diligenza del padre di famiglia, che è quello appunto che cerca di tornare a casa la sera dal luogo di lavoro, allora anche tutto questo deve essere di grande aiuto per noi, perché per capire appunto, soprattutto appunto per questi ragazzi che sono qui oggi, per capire che il mondo del lavoro è un mondo dove la sicurezza è importante, ai tempi di questo gravissimo incidente la sicurezza non era assolutamente considerata, tant'è vero che questo caso è sostanzialmente dimenticato perché non ha fatto scuola come altri casi, no, che sono capitati più di più di recente, però appunto la sicurezza del luogo di lavoro è una cosa fondamentale, io veramente lo chiedo alle mie figlie di essere sicure nelle cose che fanno, lo dico a tutti voi ragazzi di veramente valutare bene quando fate le cose, quando soprattutto andrete a lavorare in un'azienda, di andare a lavorare in un'azienda che vi garantisca la sicurezza come appunto è stato detto. Grazie